Il Covid è costato alle Marche una perdita di 7.623 posti di lavoro, pari all'1,2% dei 635.379 occupati. È questo il calo registrato tra aprile e luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. A pagare il conto del virus sono stati soprattutto gli uomini. Ad affermarlo il centro studi CNA Marche che ha elaborato i dati Istat. Ma il dato che fa più riflettere è il dimezzamento delle persone in cerca di lavoro. I disoccupati iscritti alle liste di collocamento che nel secondo trimestre del 2020 hanno cercato un'occupazione sono stati 31.033 rispetto ai 64.853 dell'anno precedente. Di conseguenza la Forza Lavoro Marchigiana scende di 41.443. In aumento gli inattivi scoraggiati, ossia quelli che non cercano ma sarebbero disponibili a lavorare. Alla fine della giostra il tasso di disoccupazione scende ad un improbabile 4,7%. Non sono diminuiti i disoccupati, più semplicemente chiusi in casa e scoraggiati dal Covid, con le aziende in lockdown, hanno rinunciato a cercare un lavoro e sono usciti dalle statistiche della Forza Lavoro. Tra gli occupati marchigiani, mentre aumentano in agricoltura e rimangono pressoché stabili nell'industria, crollano nel commercio, alberghi e ristoranti. Infine, mentre i dipendenti crescono di 4.442 unità, i lavoratori autonomi escono dal lockdown, con 12.066 occupati in meno, pari al 7,4%. Rispetto alle altre regioni d'Italia, le dinamiche marchigiane mostrano una notevole capacità di tenuta occupazionale. Meglio delle Marche di fatti fa solo l'Abruzzo, mentre regioni a forte presenza di micro e piccole imprese, come Emilia Romagna e Veneto, registrano diminuzioni occupazionali ben più decise.